pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati con il mercoledì delle ceneri inizia il tempo di quaresima un tempo di grazia di conversione un tempo forte che può favorire il nostro cambiamento tutti abbiamo bisogno di migliorare di cambiare in meglio ci ha ricordato il papa ecco questi 40 giorni che ci associano in particolare ai 40 giorni di gesù nel deserto dove digiuna affronta la tentazione la vince vogliono aiutarci a vivere la pasqua in maniera più profonda cioè a vivere da risorti a vivere una vita più libera dal male più liberi di amare a vivere da figli di dio il brano del vangelo secondo matteo tratto dal capitolo 6 collocato nel famoso discorso della montagna ci ricorda non solo l'importanza del fare la giustizia cioè del fare ciò che è giusto davanti a dio che ci tiene in buona relazione con lui che è buono per noi e per gli altri ma soprattutto ci ricorda il modo di farla al primo versetto infatti gesù dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per esserne ammirati altrimenti non avrete ricompensa presso il padre vostro che è nei cieli gesù dunque ci mette in guardia dalla vana gloria che ci fa perdere la vera gloria la ricompensa del padre cioè la sua gioia in noi la sua presenza in noi il frutto dell'aver amato per amore gratuitamente prima di addentrarci qual è il punto il bisogno di riconoscimento di stima che gli altri si accorgano di noi che ci riconoscano che ci comunichino affetto è un bisogno umano già da quando siamo piccolini potremmo dire viviamo di sguardi pensate il bambino la bambina piccola che inizia a camminare o che gioca quante volte guarda la mamma guarda il papà ha bisogno di quello sguardo di incoraggiamento di quell'affetto per prendere sicurezza e tanto più ne riceve tanto più vive in un ambiente positivo tanto più cresce in autostima crescendo abbiamo sempre bisogno di sguardi d'amore e ne cerchiamo e ne riceviamo tanti e ne incontriamo tanti che sono come raggi che riscaldano la nostra vita e potremmo dire la fanno fiorire mentre un fiore fiorisce per una legge naturale che dio gli ha scritto dentro noi fioriamo in virtù dell'amore ricevuto e dato ma qual è il problema dietro tutto questo si può nascondere un pericolo una dipendenza quella di vivere elemosinando continuamente attenzione come un continuo esisto anche io come se il nostro diritto ad esistere e il nostro valore dovessero darcelo sempre gli altri fare anche le cose buone per il ritorno d'immagine vivere come se la vita fosse la vetrina di un social dove contano i like che gli altri mettono capite bene che qui si inserisce la tentazione di vivere davanti agli uomini di mostrarsi di apparire vivere di vanagloria è un discorso molto serio pensate che addirittura san paolo in efesini 6 6 parla dell'oftalmodulia la schiavitù degli occhi questo vivere schiavi dello sguardo altrui in ogni opera buona entra in gioco il bisogno di riconoscimento ora se io lo cerco in dio cioè se io vivo consapevole di essere da lui amato alimentando il desiderio di essergli gradito e dunque di amare del suo amore in modo gratuito generoso distaccato sperimenterò in me la pace la gioia intima profonda ma se lo cerco negli altri non ne avrò mai abbastanza vivrò schiavo del giudizio degli altri di quanto mi possa mettere sempre più in mostra o del tentativo talvolta anche goffo di dare buona immagine di me e così avrò il culto dell'immagine l'idolatria il culto della mia immagine e andrò in cerca della vana gloria perdendo la vera gloria il cammino di purificazione del nostro cuore affinché il nostro agire e il nostro amare diventino sempre più gratuiti e un cammino serio e profondo miei cari che richiede la grazia di dio un rapporto vissuto profondamente con lui un'attenzione alle nostre azioni al motivo e al fine per cui le compiamo san filippo neri diceva che la vana gloria può essere di tre tipi sempre più subdola c'è chi agisce già in vista della vana gloria del ritorno d'immagine che gli verrà si possono organizzare anche eventi caritativi ad esempio pensando già ai proclami che non usciranno sui giornali o fare delle attività anche pastorali in vista del ritorno d'immagine che si può avere che ne so in diocesi agli occhi del vescovo di chi che sia la seconda è più subdola tu scegli di fare il bene ma mentre lo stai compiendo nasce il desiderio del ritorno d'immagine che gli altri se ne accorgano il terzo livello ancora più subdolo e quando scegli il bene lo fai lì per lì non cerchi niente ma se alla fine non ti dicono bravo non ti riconoscono ci rimani male e magari mormori e mugugni pensiamo alle piccole azioni di ogni giorno e capiamo quanto questo darlo sia presente nelle nostre anime può toccare sia il rapporto con dio che con gli altri ad esempio quante volte quando le cose non vanno bene ce la prendiamo con dio rinfacciando le cose buone fatte per lui le preghiere i pellegrinaggi le partecipazioni a messa o quante liti in famiglia perché nei momenti di nervosismo ci si rinfaccia il bene fatto l'uno per l'altra o quante volte si rimane delusi e si portano avanti musi lunghi per mancanze di ringraziamento anche per cose semplici davanti ad aspettative di glorificazione di chissà quale tipo ecco capiamo bene qui non si tratta di non saper gioire dei piccoli gesti d'affetto e di ringraziamento ma di non vivere in funzione di questi imparando ad amare gratuitamente ecco perché gesù dopo ci presenta tre quadretti legati alle tre famose opere di giustizia famose anche nel giudaismo l'elemosina la preghiera e il digiuno mettendoci in guardia dal pericolo di farle non per amore di dio ma per il ritorno d'immagine anzitutto l'elemosina quando fai l'elemosina dice gesù non metterti a suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoge e nelle strade per averne gloria presso gli uomini in verità vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa gesù dice che chi fa questo è un ipocrita gli ipocrites nel mondo greco soprattutto era la maschera del teatro cioè chi fa così non è persona fa il personaggio si mostra ciò che non è e qual è la ricompensa che già ha avuto nel fare così è quel piacere immediato carnale che ti dà il ritorno d'immagine che ti dà l'apprezzamento degli altri ma questo ti fa perdere qualcosa di più profondo mentre fai l'elemosina invece non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra in modo che resti nel segreto e il padre tuo che nel segreto ti ricompenserà qual è la ricompensa del padre e la sua gioia in noi e la sua presenza in noi e quella gioia intima e profonda che sgorga dall'aver amato per amore per aver compiuto un'opera di bene per amore di dio e di chi avevamo accanto senza cercare il ritorno che mi può dare l'aver fatto il bene addirittura gesù dice la tua sinistra non sappia ciò che fa la tua destra come a dirci il bene che fai sia così gratuito e disinteressato da non ripensarlo neanche tu così da non cadere nell'autocompiacimento poi gesù parla della preghiera che di per sé il contatto profondo con dio si può ridurre anche la preghiera alla ricerca del proprio io certo infatti gesù che cosa dice quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano stare ritti nelle sinagoge nelle piazze perché gli altri possano ammirarli in verità vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa ecco il tempo di gesù suonava tre volte la tromba mattina mezzogiorno e sera per la preghiera e c'era chi amava posizionarsi in modo strategico per essere osservato dagli altri ci sembra qualcosa di lontano e avulso da noi ci si può ridurre a frequentare la chiesa per attirare consensi ed essere ritenuti persone da bene si può pregare in un certo modo perché gli altri pensino oh che persona pia si può celebrare la liturgia svolgervi un ministero persin presiedere la liturgia atteggiandosi in modo che gli altri ci notino e magari pensino come santo guarda come preciso certo che si può il nostro ego è tipo un pallone che non si stanca mai di gonfiarsi ecco perché gesù dice quando preghi invece chiuditi nella stanza prega nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto e che è presente nel profondo del tuo cuore potremmo dire ti ricompenserà gusti l'intima dolcezza della presenza di dio se scendi nel tuo cuore se prendi vero contatto con lui e infine gesù tocca il tema del digiuno che di per sé la stensione dal cibo e la mortificazione della carne della sensualità diceva san francesco di sales che fortifica lo spirito eleva l'anima dio indebolisce la concupiscenza dandoci la forza per ordinare le passioni disponendo il nostro cuore a non cercare che dio solo possiamo ridurre tanta bellezza alla ricerca della propria immagine della vana gloria certo al tempo di gesù alcuni accompagnavano la pratica del digiuno con gesti ben visibili non lavarsi il volto non allisciarsi i capelli usare vesti più sobrie erano segnali visibili del digiuno ecco gesù critica questa modalità e ci invita a digiunare nel segreto non facendolo sapere acconciandoci bene sistemandoci in modo tale che nessuno se ne accorga così il padre che vede nel segreto ti ricompenserà si riverserà copiosamente in te infondendo sempre più amore sempre più gioia nella tua anima in conclusione miei cari chiediamo al signore che ci aiuti a vivere una quaresima significativa con una preghiera più intensa un digiuno più puntuale una carità più operosa facendo soprattutto attenzione alla qualità della nostra preghiera del nostro digiuno della nostra elemosina imparare ad amare gratuitamente dicendo di no a quei pensieri atteggiamenti vanagloriosi e allora sì che saremo pieni della vera gloria della presenza di dio del suo amore e della sua gioia che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti